Gli incredibili deliri che sto assistendo da ieri sera non me ne sarei mai aspettato di trovarli e sinceramente neanche mi mancavano. È assurdo che si metta in dubbio gli episodi di ieri sera dove a detta di Luca Marelli, ex arbitro e persona di cui ho una stima infinita, e che accetto spesso tutto anche quando dice che la Juve è stata vantaggiata da alcuni episodi, cosa che può succedere essendo uno sport dove gli arbitri sono esseri umani quindi possono sbagliare. Ieri sera Luca Marelli ha dichiarato che il rigore è giustissimo e sacrosanto, l'espulsione non era sacrosanta di più e l'unico errore della partita praticamente di Orsato è stato il fallo con l'ammunizione di Miralem Pjanic che si prende un giallo nonostante la trattenutina data al giocatore del Milan non fosse una potenziale occasione da gol e manca un cartellino giallo a Calabria. Questa è insomma la sintesi di ieri detta da un esperto, la moviola fatta da un esperto. Ma a me la roba che lascia perplesso è che dopo che Rebic fa un fallo del genere, intanto Cialanoglu arriva e dice e dice a Tesea, è meraviglioso, dove andarlo a vedere al VAT, perché? Ma perché vuoi fare decapitare in piazza Rebic? Perché se l'arbitro va a vedere una roba del genere lo condanna, lo condanna all'ergastolo, cioè è allucinante il fallo che fa Rebic e non esiste neanche il non ha visto, guardava il pallone, no, no guardava il pallone e poi dopo alza la gamba per fare fallo e fare quel brutto fallo quindi è il rosso secco diretto e non solo il rosso secco diretto, il rosso secco diretto per quanto mi riguarda lo squalificherei anche per qualche giornata, perché è uno così e ha fatto un fallo criminale, ha fatto un fallo criminale. Ma poi si paragona al fallo di Pjanic due anni fa dove meritava il giallo, allora io ripeto quel fallo lì è da giallo, ma Pjanic su Rafinha non si accorge di Rafinha, era già in tuffo, quando se ne accorge ritrae il piede e lo colpisce col ginocchio, giallo sacrosanto, l'ho detto sempre, ma giallo, non rosso, questo è da rosso, questo è un intervento, guarda credo che la parola giusta sia Claymore Kick, quello di Drew McIntyre, proprio uguale, allucinante sentire da parte di milanisti e non solo milanisti critiche per questo rosso, così come i rigori, i rigori andate e ritorno sono rigori sacrosanti, qua Conti e Conti ragazzi a me non è mai piaciuto e lo sapete, ma allarga per prenderla di gomito, all'andata Calabria quando si rende conto che Ronaldo sta per calciare, allarga il braccio, ma di che parliamo ragazzi, sono calci di rigore solari, sacrosanti e giusti, quindi invece di lamentarvi, ricordate che all'andata c'erano due rigori su quadrado, tutti e due di che sì, di cui uno, uno da rosso perché tira una gomitata a palo lontana a quadrado e lì era da VAR e la VAR non è andata a vedere, scandalosamente, quindi e caro Cialanoglu, non lamentarti del fatto che abbiano dato questo, che non abbia visto il VAR qua, che l'ha visto pure dalla luna che quello era un intervento da rosso, lamentate il fatto che all'andata che sì, ha giocato dopo che ha tirato al 45esimo una gomitate in faccia a quadrado, che ne sai, magari all'andata segnava quel gol lì, su calcio di rigore, magari finiva 2-3-0, che ne sapete, non è che mi sembra una squadra così, una cosa così improbabile, cioè se la Juve fosse andata in vantaggio all'andata, probabilmente staremmo parlando di un'altra qualificazione, anche perché poi c'era un altro fallo di Rebic sul quadrado, quindi pensate, tanto criticato ma prima dell'1-0 di Milano c'erano due rigori per la Juve, magari andavamo sul 2-0, magari non segnavate, magari, poi ieri come ho detto, sto vedendo dei deliri per una roba che è talmente netta che io mi rifiuto anche di commentarla, sulla copertina c'è l'immagine con la lente del fallo di Rebic, chiunque reputi, chiunque reputi quel fallo lì, un fallo d'ammunizione, io credo che sia classificabile come, non lo so, primate col pollice opponibile, perché un essere umano normale, cioè con un minimo di cui si rende conto che quello è rosso diretto, in qualsiasi parte dell'universo, in qualsiasi parte del globo, tra l'altro mi è piaciuto perché volevano il VAR ma è stato il quarto uomo a dire a Dorsato di buttarlo fuori perché Dorsato aveva la visuale bloccata da, credo, proprio Pjanic e stava tirando fuori il giallo, se ne accorto dopo che era assolutamente rosso, quindi assolutamente polemiche inutili e sterili come tutte quelle che si vedono nell'ultimo periodo, quindi Juve in finale, meritatamente, senza aiuti arbitrali nonostante i pianti che ci sono da ieri sera e fino alla fine forza Juve, vediamo mercoledì di girare in un'altra maniera, ecco, mercoledì speriamo solo una cosa, buttiamo dentro i palloni che ci capitano perché ieri sera mi ha sprecato tutto quello che si poteva sprecare. Ciao a tutti ragazzi!